quadra quindicesimo album in studio di sepoltura ha visto la band fare un vero e proprio salto di paradigma realizzando un lavoro entusiasmante incentrato tutto sul significato polisemico del numero 4 dove nel caso specifico la prima regola di questo gioco si chiama vita quadra è un album senza compromessi in cui la band brasiliana per l'ennesima volta ribadisce di saper scrivere canzoni dure come un macigno anche senza la presenza dei fratelli cavalere